Larry, ragazzo mio, dissi. Questa sua lunga ricerca cominciò col problema del male. Fu il problema del male che la spinse, ma finora niente di ciò che mi ha detto mi fa capire che lei abbia trovato una soluzione, anche provvisoria di quel problema. Forse non c'è una soluzione, o forse non sono abbastanza sagace per trovarla. Rama Krishna considerava il mondo il passatempo di Dio. È come un gioco, disse. In questo gioco sono contenute gioie e dolori, virtù e vizio, sapere e ignoranza, bene e male. Il gioco non può continuare se peccato e sofferenza sono completamente eliminati dalla creazione. Io respingo questa spiegazione con tutte le mie forze. La migliore che posso offrire in cambio è che quando l'assoluto si manifestò nel mondo, il male fosse il contrapposto naturale del bene. La limpidezza stupenda dell'Himalaya non si sarebbe avuta senza una convulsione indicibilmente paurosa della crosta terrestre. Gli artigiani cinesi, quando fabbricano un vaso con quella porcellana detta guscio d'uovo, possono dargli una bella forma, ornarlo in un bel disegno, dipingerlo di un meraviglioso colore e coprirlo con uno smalto perfetto. Ma la natura stessa del vaso impedisce di eliminarne la fragilità. Se il vaso cade a terra, si spezza in cento frammenti. Non è possibile concepire nello stesso modo che i valori che apprezziamo nel mondo possono esistere solo in combinazione con il male. La sua spiegazione è molto ingegnosa, Larry, ma non mi soddisfa molto. Non soddisfa molto nemmeno me, dispose sorridendo. Il meglio che possa dire per giustificarla è che, giunti alla conclusione che una cosa è inevitabile, conviene adattarli, sì. Quali sono ora i suoi progetti? Ho un lavoro da finire qui, poi tornerò in America. Per far che cosa? Per viverci? Come? Rispose freddamente, ma con un lampo malizioso negli occhi, poiché sapeva che non mi sarei certo aspettato una simile risposta. Con calma, sopportazione, compassione, altruismo e continenza. Una regola molto severa, dissi. E perché mai la continenza? Lei è giovane e sembra saggio cercare di sopprimere l'istinto più forte dell'animale umano, dopo la fame. Per mia fortuna, la soddisfazione dei sensi è sempre stata per me un piacere, piuttosto che un bisogno. Io so per esperienza personale che i saggi dell'India hanno perfettamente ragione di dire che la castità aumenta enormemente il potere dello spirito. Ho sempre creduto che la saggezza sia nel cercare un equilibrio tra le esigenze del corpo e quelle dell'anima. Ma gli indiani ci rimproverano appunto di non averlo raggiunto. Secondo loro, attraverso le nostre numerose invenzioni, le nostre fabbriche e tutti i loro prodotti, noi altri abbiamo cercato la felicità nelle cose materiali, mentre sta invece nelle cose spirituali. Ed essi credono che la via che abbiamo scelta conduce alla distruzione. E lei ha l'impressione che l'America sia un posto adatto per praticarvi quelle speciali virtù che mi ha elencate? E perché no? Voi altri europei ignorate tutto dell'America. Voi credete, perché amassiamo grandi ricchezze, che teniamo solo al denaro? Non ci teniamo affatto invece. Appena l'abbiamo guadagnato lo spendiamo. Qualche volta è bene e qualche volta è male. Ma lo spendiamo. Il denaro per noi non è niente. È solo il simbolo del successo. Noi siamo i più grandi idealisti del mondo. Solo secondo me ci siamo sbagliati nella scelta del nostro ideale. Secondo me il più grande ideale che possa proporsi l'uomo è il proprio perfezionamento. È un ideale nobile, Larry. Non ne pare che meriti che gli si dedichi la vita? Ma lei immagina davvero per un momento di poter avere da solo un qualche ascendente su un popolo irrequieto, indaffarato, senza legge, intensamente individualista come quello americano? Riuscirebbe più facilmente a trattenere le acque del Mississippi con le sole mani? Proverò. È stato un uomo a inventare la ruota, un uomo a scoprire la legge della gravitazione. Niente di ciò che accade senza effetto. Se uno butta un sasso in uno stagno, il mondo poi non è più esattamente quello che era prima. È un errore pensare che quei santi uomini dell'India conducano vite inutili. Essi sono come dei lumi che brillano nelle tenebre. Rappresentano un ideale che è un sollievo per i loro simili. Può darsi che il comune degli uomini non lo raggiunga mai, ma lo rispetta e ne viene seriamente influenzato. Quando un uomo diventa puro e perfetto, l'influenza della sua personalità si diffonde intorno a lui, attirando naturalmente coloro che cercano la verità. Forse la vita che mi sono scelta, se riuscirò a praticarla, influenzerà gli altri. La mia influenza non sarà forse maggiore dell'increspatura prodotta da un sasso buttato in uno stagno, ma un cerchio ne genera un altro. Il secondo, un terzo e forse alcune persone capiranno che il mio modo di vivere offre felicità e pace e insegneranno a loro volta ad altri ciò che avranno imparato da me. Mi domando se ha misurato la difficoltà dell'impresa, Larry. I filistei, sa, hanno abbandonato da tempo la ruota, il palo, per sopprimere le opinioni che temono. Hanno scoperto un mezzo di distruzione molto più efficace, la canzonatura. Non mi spavento per così poco, ribatte sorridendo Larry. Posso solo dirle allora che è una gran fortuna che lei sia finanziariamente indipendente. Finora il mio denaro mi è stato molto utile. Senza di esso non avrei potuto fare tutto quello che ho fatto, ma il mio tirocinio è finito. D'ora in poi quel denaro sarebbe solo un peso per me. Ho deciso di sbarazzarmene. Sarebbe una pazzia. L'unica cosa che renda forse possibile il genere di vita che lei si propone è l'indipendenza finanziaria. Al contrario, l'indipendenza finanziaria toglierebbe ogni senso alla vita che mi propongo. Non seppi trattenere un gesto di impazienza. È una vita che va molto bene per il mendicante vagabondo dell'India. Egli può dormire sotto un albero e la gente pia per acquistarsi dei meriti. È sempre pronta a riempire di cibo la sua ciotola di questuante. Ma il clima americano non è il più adatto per dormire all'aria aperta. E sebbene io non pretenda di conoscere molto il suo paese, so che i suoi connazionali sono d'accordo su un punto. Chi vuol mangiare? Deve lavorare. Mio povero Larry. Lei sarà arrestato per vagabondaggio e mandato in prigione prima di aver cominciato a fare quello che vuole. Scoppiò a ridere. Lo so. Bisogna adattarsi al proprio ambiente. Non ho detto che non voglio lavorare. Quando sarò in America cercherò un posto in un'autorimessa. Sono un buon meccanico e vedrà che ci riuscirò. Non crede che così sprecherà dell'energia, che potrebbe essere più utilmente impiegata in altri modi? Il lavoro manuale mi piace. Ogni volta che ero stanco di studiare, mi ci sono buttato dentro per qualche tempo e ho trovato che rinvigorisce lo spirito. Un biografo di Spinoza giudica un terribile sacrificio. Ricordo che il filosofo, per guadagnarsi una magra sussistenza, fosse costretto a tornire delle lenti. Che sciocchezza. Sono certo che quel lavoro manuale fu molto utile all'attività intellettuale di Spinoza, se non altro perché lo aiutò a dimenticare le dure fatiche della speculazione. Mentre lavo un'automobile o accomodo un carburatore, il mio cervello è libero. E terminato il mio compito ho l'aggradevole sensazione di aver concluso qualcosa. Non vorrei certo rimanere indefinitamente in un'autorimessa. Manco dall'America da molti anni e devo rifare conoscenza con la patria. Cercherò di trovare un lavoro come camionista e così mi troverò, dopo qualche tempo, ad aver viaggiato da un capo all'altro del paese. Lei ha forse dimenticato l'impiego più importante del denaro. Il denaro ci fa risparmiare tempo. La vita è così breve, c'è tanto da fare qua giù, che non possiamo concederci di sprecare un minuto. E rifletta soltanto quanto tempo si spreca, ad esempio andando a piedi in un posto invece che con l'autobus, e andando con l'autobus invece che col tassi. Lei sorrisa. È vero, non ci avevo pensato, ma potrei risolvere queste difficoltà diventando il proprietario di un tassi. Che cosa vuol dire? Un giorno o l'altro mi stabilirò a New York, perché fra l'altro ci sono delle biblioteche. Mi occorre pochissimo per vivere, non mi importa dove dormo, e un pasto al giorno mi basta ampiamente. Quando avrà finito di vedere tutto quello che desidero dell'America, calcolo che ero da parte abbastanza denaro per comprare un tassi e mettermi a fare l'autista pubblico. Lei dovrebbe essere rinchiuso, Larry. È pazzo da regare. Niente affatto. Sono molto ragionevole e molto pratico. Proprietario di un tassi. Avrei bisogno di lavorare solo il numero di ore necessarie per pagarmi il vito e l'alloggio e l'ammortamento della macchina. E potrei dedicare il resto del mio tempo ad altri lavori. Se volessi andare in fretta e in qualche posto, potrei sempre servirmi del mio tassi. Ma, Larry, un tassi è anch'esso una proprietà come un titolo di Stato, disse per stuzzicarlo, nella sua qualità di conducente proprietario. Lei sarebbe un capitalista. Scopriò a ridere. No. Il mio tassi sarebbe semplicemente il mio strumento di lavoro. sarebbe l'equivalente del bastone e della ciotola del mendicante vagabondo. La nostra conversazione finì su questo tono scherzoso. Notavo da qualche tempo che lo gente cominciava ad affluire più numerosa nel caffè. Un uomo in abito da sera sedette non lontano da noi e si ordinò una colazione sostanziosa. Aveva l'aspetto stanco ma soddisfatto di chi ricorda con compiacenza una notte di amorose follie. Alcuni vecchi signori, mattinieri, perché la vecchiaia esige poco sonno, bevevano con l'aria decisa il loro caffè o lè, leggendo attraverso spesse lenti il giornale del mattino. Uomini più giovani, alcuni ben messi, altri in giacche logore, entravano in fretta a divorare una pasta e a inghiottire una tazza di caffè prima di correre in un negozio o in ufficio. Una vecchia entrò con un fascio di giornali e andò in giro fra i tavoli offrendo inutilmente la sua merce. A un tratto, guardando attraverso il cristallo delle grandi vetrine, mi accorsi che era giorno chiaro. Qualche minuto dopo la luce elettrica fu spenta, tranne in fondo l'enorme ristorante. Guardai l'orologio. Erano le sette passate. E se facessimo colazione? Dissi.